Grazie a tutti. A che età ha cominciato Margherita Chiavaro a giocare a pallavolo? Quindi così facciamo fare subito i conti di quanti anni ho, 25 anni di pallavolo, ho iniziato a 9 anni. Chi è stato l'ispiratore o la musa ispiratrice? Come per molte ragazze della mia età, degli anni 80, i cartoni animati. Guardavo, sono cresciuta a pane e cartoni animati, pane e mille sciro, mi mi, li guardavo tutti. Quindi sognavo di giocare anch'io, di poter arrivare in nazionale, la serie A, i sogni legati insomma ai cartoni animati. Quali sono stati gli allenatori che ti hanno dato qualcosa in più rispetto agli altri in questa lunga carriera? Sicuramente, proprio i primissimi allenatori che mi hanno formata. Avevo solo 9 anni, quindi Gaetano Salamone e Graziella Scollo. E poi negli anni ho avuto la fortuna di avere tutti i bravissimi allenatori, come il professore Reale, Piero Maccarone, Santino Sciacca, il mio attuale allenatore. Bisogna anche essere fortunati, nel mio percorso è andata bene. Uno scudetto nel beach, lo ricordiamo, coppia storica con Manuela Manerba e poi anche quattro finali scudetto. Sì, sì. Ma ti manca la nazionale? Mi manca la nazionale, ma non credo ormai arriverà più, diciamo, alla mia età. Però non mi lamento, le esperienze fatte soprattutto nel beach ball e con la vittoria dello scudetto nel 2003 è qualcosa che difficilmente potrò mai dimenticare. Poi con Manuela, una mia carissima amica, è stato qualcosa di, sinceramente, forse anche di impensato, per certi versi. Ero così giovane, avevo 21 anni. Il fatto di non essere stata mai in nazionale è anche dovuto alla dimensione tecnica organizzativa che abbiamo in Sicilia? Cioè, paghiamo il fatto di non avere delle squadre al vertice? Ma, guarda, al di là di me sarebbe forse un discorso anche presuntoso. Al di là di me, in generale, dico che comunque sicuramente noi al sud siamo penalizzati perché mancano le strutture, i palazzetti sono inagibili, non ci sono fondi, è tutto purtroppo un po' più indietro, sia nello sport come in tanti altri settori. Invece al nord è tutto molto più sviluppato, più organizzato, ci sono i fondi, ci sono allenatori specializzati. Non che qui non ci siano, però sinceramente il sistema funziona un po' meglio. Quindi in qualche maniera sei penalizzato, sicuramente. Al di là della nazionale, un rimpianto dal punto di vista agonistico, sportivo, nella carriera di Margherita Chiavaro? No, no, rimpianti no, non ne ho. Sinceramente no. Aver detto no ad una società, ad un trasferimento al nord Italia. No, no, penso di essere stata fortunata. Ho fatto sempre le scelte nella pallavolo come nella mia vita, le scelte senza nessuna costrizione, senza farmi vincolare da nessuno e da niente. Ho scelto sempre quello che in quel momento ho ritenuto fosse giusto per me. E poi col tempo è andata anche bene. Posso dirti che le scelte che ho fatto sono andate bene così, per un motivo, per un altro, però sono andate bene. Fuori dal parquet chi è Margherita Chiavaro? Vive da sola, in famiglia? Ha messo su famiglia? No, non ho ancora messo su famiglia, continuo a giocare, in perterrita. Margherita Chiavaro adesso è tornata a studiare. Addirittura. Quindi si è tornata a studiare, sono entrata in ostetricia, quindi tra qualche mese inizierò già anche il tirocino, per cui mi vedrete in un'altra veste con camice, fonendoscopio. Significa dunque che non ci sarà un futuro nel mondo della pallavolo come tecnico al limite dirigente? Allora diciamo che non è mai stato il mio progetto quello di diventare allenatore, no, questo no, non credo. Poi certo non so se magari in qualche maniera, in qualche veste, sarò più avanti nell'ambito sportivo, però nel mio futuro adesso mi vedo in sala parto. A proposito di vita privata, cucini bene, per la cavi e i fornelli, oppure preferisci il già pronto? Allora, cucino, so cucinare, ma non è una passione. Mi piace più guardare Masterchef in tv che dilettarmi io in cucina. Però se, cioè volendo, ecco, so cucinare, so cucinare anche bene, però non è proprio una passione. Se riesco a mangiare qualcosa di pronto, meglio, anche se comunque faccio fatica perché sono vegetariana. Quindi il più delle volte sono appunto costretta a preparare da me i miei piatti. E come fai, insomma, seguendo la dieta vegetariana, ad essere in forma, per esempio le proteine, come fai a tirarle fuori, per un'atleta ai tuoi livelli? Io ormai sono vegetariana da almeno quattro anni, quindi già da diverso tempo. E posso dirti che sto meglio perché le proteine le assimili, le prendi comunque, però sono proteine di origine vegetale e quindi almeno per me sono molto più assimilabili, facilmente assimilabili rispetto alle proteine di derivazione animale. e quindi mangio tantissimi legumi, mangio piatti a base di soia, verdure. Quando andate in trasferta con la squadra, insomma, è un po' più difficoltoso. Ma sai, neanche più di tanto. Alla fine io mi accontento di poco, non sono pretenziosa. Mangio un piatto di pasta in bianco con un po' di parmigiano, magari un po' di grana, una mozzarella, un'insalata. Per me va benissimo. Nella vita privata hai una passione, quella dei viaggi. Sì. Qual è stato il viaggio che non dimenticherai mai? Ho fatto diversi viaggi molto belli, forse il più bello in Uganda, soprattutto perché ero con mia madre e sono riuscita a fatica a convincerla. E quindi è stato un viaggio bellissimo. Siamo andati a vedere i gorilla di montagna dopo quattro ore di trekking in una foresta pluviale, cosiddetta impenetrabile, quindi ti lascio immaginare. Quindi questo è sicuramente uno dei più belli, ma poi anche il Madagascar era un sogno, quindi averlo potuto realizzare è stata un'esperienza unica. Ho fatto tanti viaggi, sono andata in Kenya, ho organizzato il viaggio da sola con mio cugino, di recente alle Maldive. Ti piace viaggiare, ma il viaggio da fare invece, quello proprio che hai nel cuore? C'è un viaggio in particolare? Mi piacerebbe l'Australia. Diciamo che al momento è mancato, soprattutto per una questione proprio di tempo, perché per andare in Australia necessiti di almeno una ventina di giorni, non puoi andare lì per stare nove giorni, dieci giorni. Quindi purtroppo è difficile, la mia vita è un po' incastrata tra i mille impegni. Adesso anche l'università ha la frequenza obbligatoria, quindi scappo dalla facoltà, poi devo studiare, poi c'è la palestra, poi c'è il fidanzato, poi c'è... Ecco, la tua vita sentimentale è complicata sotto questo aspetto? O riesci a semplificarla? Cioè sei una dei gusti difficili? Pretendi molto da un rapporto? Sì, pretendo perché... Sono pretenziosa perché anche io do molto, come in tutte le cose che faccio. Mi piace impegnarmi. Però, diciamo, non è difficoltosa perché comunque il mio fidanzato mi segue. Praticamente è il capoltrà della mia squadra di pallavolo, quindi tu lo trovi ovunque. Tu pensi che lui va anche... Quando io magari la domenica studio, sono chiusa a casa a studiare, lui va praticamente a vedere le partite delle avversarie. Addirittura. E poi mi racconta come è andata. Quindi il tuo primo tifoso. Sì, tifoso e non solo, cioè lui va anche a controllare, a vedere quali sono i punti critici delle avversarie. Fa una sorta di relazione anche, un osservatore personale. Esatto, mentre io studio lui fa anche questo. Quindi ha superato anche mamma Cettina sotto questo aspetto. Sì, no, ma ormai mia madre non viene più. Non viene più perché soffre troppo. Quindi ha alpa tema d'animo. Io mi ricordo le ultime partite, lei usciva continuamente. Io la cercavo in campo, era quasi un motivo di svago. Perché lei ogni 1 e 2 praticamente usciva perché soffriva le azioni quelle un pochettino più movimentate. Abbiamo già chiacchierato per più di 8 minuti. Adesso chiediamo alla regia di farci vedere alcune fotografie significative della vita in campo e anche fuori di Margherita Cavaro. Allora invito appunto la regia a visualizzarle così le commentiamo velocemente. Qui è una tappa del beach, chiaramente. Beach Volley. Tu sei di spalle? Sì, io sono sì di spalle ovviamente. Sì, questa foto è significativa perché comunque in quell'anno lì ancora uno degli sponsor della Gazzetta dello Sport è come per il ciclismo, avevamo le canotte rosa. E io e Manuela Malerba per quasi tutto il circuito di Beach Volley siamo state le detentrici di questa ambita canotta rosa. Con orgoglio e grande soddisfazione. Andiamo avanti. Questa è una foto trattata da un giornale. Questa è una foto di un articolo proprio uscito pochissime settimane fa che racconta quello che abbiamo appena detto, ovvero la mia attuale vita tra l'amore, viaggio e palestra e l'università. C'è una giraffa alle tue spalle? Sì, là sono in Kenya, avevo organizzato un viaggio proprio fai da te, organizzato tutto da me e lì ero proprio a piedi nella savana. Andiamo avanti con le foto. Questa era la prima parte dell'articolo. Sì, schiacciate in sala parto. Sì, spero di non schiacciare nessuno veramente in sala parto. Ma questo amore per l'ostetricia da dove nasce? Nasce da sempre, non credo ci sia un perché. Amo i bambini tantissimo, ho due nipoti stupendi che li sento davvero come fossero figli. Quindi forse un po' l'amore per i miei nipoti e dunque ho sempre sognato di poter fare questo mestiere. Ma anche di diventare mamma? Sì, quello indubbiamente non è una cosa che metto da parte, lo farò. Magari mi sparo questi ultimi anni di pallavolo e poi apriremo questo cantiere. Ritorniamo alle foto significative della vita dentro e fuori dal campo di Margherita Cavalo. Questa foto, sono sempre con Manuela Malerba, è praticamente facciamo il numero 4 perché avevamo vinto quattro tappe consecutive del campionato italiano e abbiamo praticamente stabilito il record di vittorie di tappa. Quindi siamo le detentrici anche di questo, oltre ad aver vinto lo scudetto abbiamo questo record di quattro vittorie di tappa consecutive. Andiamo avanti. Qui con Manu siamo a Santo Domingo, è recentissimo, non più di due anni fa. Non eravate in tournée qui? No, questo è stato il primo viaggio che abbiamo fatto, un po' proprio vacanza, che non vi fosse beach ball. Non abbiamo forse neanche toccato la palla da beach ball, è solo relax, escursioni, mare, basta. Andiamo avanti. Ma questa è di adesso, è la foto di adesso. Con la maglia dell'Olimpia da Siracusa. Con la maglia dell'Olimpia, siamo proprio nel campo dell'Olimpia. Questa invece è una foto di una finale scudetto, che però ho disputato con Laura Cavalluzzi, una ragazza che praticamente conosceva stento, ci siamo ritrovati un po' così, però è andata alla grande perché siamo arrivate proprio in finale scudetto contro ogni pronostico. Ah, questa foto è carina perché io sembra sia una nana, ma realmente non è così, solo che giocavo con una ragazza brasiliana, Raquel, che è quasi un metro e 95, per cui vi lascio immaginare. Dove siete qui? Qui siamo, se non erro, in Puglia. Ora la località esatta non la ricordo, però eravamo in una tappa in Puglia. Lei è felicissima, dal Brasile ha girato praticamente tutta l'Italia. Io sembravo una bambina di 10 anni. Andiamo avanti. E qui ti vediamo in azione. Sì, 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 questo è un tuffo. In una delle tante tappe. Sì, 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 anche perché io sto a Biccipolle e sto in difesa, quindi sono sempre, raccolgo palloni a destra. Questa foto? Qui siamo a Zanzibar, con una mia cara amica Simona, non si vede in foto, però sono con Simona, siamo a Zanzibar, in questa escursione, in una tipica imbarcazione di Zanzibar, è stato un viaggio bellissimo. Tra i tanti? Uno tra i tanti, sì. E qui? No, qui sono in Kenya. Ecco. Qui sono in Kenya, è stata la prima volta in cui ho potuto mettere finalmente i piedi nella savana, perché solitamente non ti fanno scendere. Eccezionalmente ci hanno fatto scendere, quindi la pose è proprio di quella che sta respirando un po' di aria pura. Andiamo avanti. Questa è quella che abbiamo visto prima, sono sempre in Kenya. Sempre in Kenya. Qui sono in Kenya, però è un altro viaggio, l'anno dopo, e sono una riserva, si chiama la riserva di Lake Nakuru. La fanno vedere spesso anche in tv, sì, perché ha la peculiarità che ha un lago enorme, dove praticamente si concentrano tutti i fenicotteri rosa, e da questo punto in cui mi trovo io sotto c'è proprio questo lago pieno di fenicotteri rosa. Ultimi scatti significativi? Qui sono in un orfanotrofio per elefantini. Dove? Sempre in Africa, chiaramente. Sì, è lo stesso viaggio della foto precedente. In Kenya, sono a Nairobi per l'esattezza, c'è questo orfanotrofio per gli elefantini. Degli elefantini. Perché all'ora di pranzo lo aprono al pubblico, solo all'ora di pranzo, e poi assistere al momento in cui loro mangiano, con il biberon gigante. Anche questa è un'esperienza indimenticabile, sicuramente. Questa è la mia nonnina che è scomparsa un annetto fa, però ci tenevo a farvi vedere. Titina, Agata, Titina. Diciamo, lei era veramente la mia prima tifosa. Ora non posso dire per scaramanzia cosa mi diceva. Lei viveva a casa con me, con la mia famiglia. E io prima di uscire, di andare alle partite, entravo obbligatoriamente nella sua stanza. E lei mi diceva una frase che non posso dire per scaramanzia, perché mi porta sempre bene quando tra me e me me la ricordo. Però credimi, era forte veramente. E qui, insomma, la prima immagine. Rientriamo perché siamo quasi in chiusura del faccia a faccia. Allora, ti chiedo subito un pensiero sulla crisi dello sport catanese, che stai provando anche attraverso il consorzio di restare a galla. Qual è il tuo pensiero? Perché si è arrivata a questa grave crisi? Ma diciamo che purtroppo la crisi dello sport è solamente un riflesso di una crisi che riguarda tutta la società, tutto il sistema. Per cui la crisi riguarda il lavoro, riguarda le imprese, riguarda le famiglie. Ci sono persone che non riescono a sbarcare il lunario, non sanno come fare. Quindi pensano un po' se nello sport, se vogliamo un'attività anche minore, è normale che ci sia la crisi, perché non c'è chi investe. Per cui fa parte del sistema, del periodo che stiamo vivendo. Ultima domanda, con la quale chiudiamo i nostri faccia a faccia. Tra 100 anni, Margherita Chiavaro, per cosa vorrà essere ricordata? Perché sono una persona ottimista, non tanto per quello che ho fatto, perché alla fine tante altre persone hanno fatto molto più di me. Vorrei essere ricordata per il mio ottimismo, perché comunque c'è sempre speranza di migliorarsi e di fare bene. Io ho 34 anni, sono tornata all'università e non me ne vergogno, perché non mi piaceva la mia condizione di cassa integrata. E siccome penso che ci si possa sempre migliorare, perché no? Hai detto cassa integrata, lo ricordiamo, vicenda Winget. Winget, il responsabile del Dipartimento Charter. Sì, e quindi niente, solo un pensiero, anche per chi magari è un po' meno fortunato, a non arrendersi mai. Grazie Margherita Chiavaro. Grazie a voi. In bocca al lupo. Finisce qui il faccia a faccia a cura della redazione sportiva di Antenna Sicilia, linea alla regia. Grazie a voi.